Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, un anno dopo, più precisamente da quando nella stessa location densa della storia del ciclismo fu realizzato un primo incontro di presentazione del programma varato dall'Agenzia Turistica Locale Alessandrina per sviluppare un prodotto legato alla fruizione del territorio in bicicletta e da cui era scaturita un'importante scelta, quella di alcuni operatori della ricettività che, seppur ancora in forma embrionale, costituirono il primo gruppo di strutture bike friendly della zona, per poi dotarsi di servizi dedicati specificatamente al turista in bici. È veramente un'emozione stare qui e continuare a parlare di questo progetto che è iniziato un anno, circa un anno e mezzo fa e adesso si sta proseguendo in maniera sempre più corposa, anche perché sempre più operatori stanno prendendo parte di questo progetto e siamo orgogliosi di dire che la provincia di Alessandria può essere un capofila per portare avanti un progetto che può essere aperto anche e più ampio aperto anche alle altre province del Piemonte, quindi ne siamo molto orgogliosi. È un progetto ambizioso ma al quale crediamo molto. Paola Casagrande, direttore dell'ufficio di promozione della cultura, del turismo e dello sport della Regione Piemonte. In che modo la Regione sostiene attivamente il progetto Bike? La Regione ha tra le sue priorità sostenere tutta la rete ciclabile della Regione stessa in quanto costituisce un prodotto turistico molto interessante e molto attrattivo nei confronti anche dei turisti stranieri. Per questo stiamo lavorando per coordinare i territori e fare in modo che la rete che collega tutti i nostri grandi centri e le grandi reti ciclabili possa svilupparsi e diventare un vero e proprio prodotto turistico. Quindi investimenti, investimenti sulle piste, investimenti per aiutare le strutture ricettive a avere una maggiore sensibilità sul prodotto bici e quindi sviluppare tutti insieme quello che crediamo possa essere una svolta per il nostro Piemonte. La soddisfazione di Novi di avere questa città come capofila di un progetto ormai regionale? Beh, è una grande soddisfazione. Questa è la terra del ciclismo e quindi questo progetto che unisce il turismo, la bicicletta, il territorio è un progetto sul quale bisogna davvero investire, lavorare perché abbiamo delle grandi potenzialità. Qui sono le terre di Coppi, Girardengo e ci sono tantissimi appassionati in Italia che vorrebbero venire a correre, a conoscere le terre dove Coppi e Girardengo sono nati e correvano. Ecco perché bisogna nel trasmettere quella memoria ma investire sul futuro. Io credo che ci sia davvero la possibilità se si costruisce un progetto che metta insieme tutte queste cose, metta insieme tutto il territorio.